Musica Salve amici appassionati di Football Manager qui con voi come sempre c'è Mac94 e ovviamente Football Manager Italia siamo qui con la Regina per continuare la serie sui consigli su come impostare e iniziare una carriera appunto siamo oggi con la Regina andiamo a vedere lo staff prima che me ne dimentichi abbiamo uno staff discreto per una serie B e niente, come osservatorio ce n'abbiamo solo uno alla Iacona e io vi consiglio ovviamente il solito e mitico Chiaschini che è davvero ottimo 15 e 15 come giudiziabilità e potenziale e conoscenza di due campionati, di due nazionalità Inghilterra e Italia poi si prende veramente poco, ancora meno nella Regina che sta in serie B non perdiamoci però in chiacchiere partiamo subito con questo Mirko Priacelli che io rimanderei indietro al Parma perché comunque non è questa grande cosa anche perché abbiamo un secondo giovane Zandrini 23enne che secondo me può fare un secondo portiere benissimo partiamo anche dicendo che come budget abbiamo solamente 6 milioni e 30 e budget trasferimenti di 6 milioni eh, 6 milioni magari 650 mila euro quindi più o meno come quanti ce ne avevamo con lo Spezia la squadra della Regina forse è un pelino più forte ma siamo lì c'ha alcuni giocatori veramente molto interessanti anzi me l'avevo pure scritto che ha veramente una primavera molto interessante ottimi giovani alcuni li ho anche portati in prima squadra ma veramente tanti ottimi giovani a differenza dello Spezia ci sono ottimi giocatori in primavera e nulla, niente più eh, ricontinuiamo ad andare avanti ha una squadra comunque per lottare quasi per la serie A comunque sicuramente per rimanere in serie B e se invece con un po' i miei consigli e un po' la vostra abilità secondo me riuscirete ad arrivare in A ovviamente eh, ho fatto un po' pure la rima comunque Zandrini in secondo portiere Enes a Zizi eh, vi consiglio di venderlo anche se ci fareste veramente nulla comunque vi consiglio di mandarlo in prestito e vedere un po' che vi combina sperando anche che il valore aumenti un po' Cristian Ipsa eh, invece difensore del titolare io ho messo titolare rinnoverei lì il contratto ovviamente mi sembra comunque un ottimo difensore molto valido Giovanni Di Lorenzo invece 19enne guardate qui che rapporto eh, ricercato non dalla polizia ma da molte squadre di serie A quindi veramente ottimo come giocatori ci sono veramente tanti giovani interessanti io l'ho messo in panchina lo terrei lì oppure mandatelo in prestito per farlo crescere ancora di più però veramente un ottimo ottimo difensore lui il mitico Daniel Adeio ve lo consiglio sempre eh, ve l'ho consigliato davvero molte volte come terzino è davvero ragazzi un fenomeno prende poco comunque 150.000 euro l'anno però veramente è un fenomeno non vendetelo può giocare anche come difensore centrale ma io l'ho messo devo dire che anzi vi spiego subito ragazzi devo dire che la formazione iniziale della regina era un 3-5-1 eh, scusate 3-5-2 e Adeio quindi l'avreste dovuto mettere come difensore centrale vi consiglio il classico il mio solito 4-3-3 ma vi spiego il perché quando ho visto Di Michele ragazzi mi sono scesi giù i lacrimoni ho pensato al mio Torino il Torino del forse del 2006 2005 non voglio sbagliarmi con le date comunque quando Di Michele stavano al Torino e c'era Abate del Milan e Rosina che io chiamavo Rosinaldo avevo questo trio Abate e Rosina Di Michele in attacco 4-3-3 veramente ragazzi assurdo era macchine da gol veramente Abate era una scheggia era velocissimo Di Michele era veloce tecnico e Rosina ragazzi che ve lo dico a fare lo chiamavo appunto Rosinaldo un mostro poi c'era Barone a centrocampo Natale in difesa veramente un'annata stupenda comunque proprio per questo per un fatto di cuore ho messo in questo caso il 4-3-3 e Adeio io non lo metterei mai difensore centrale anche perché è troppo bravo tecnicamente per metterlo sullo difensore centrale e per questo l'ho messo terzino destro e quindi per farvi capire ragazzi avete un terzino destro ottimo tecnicamente ma anche bravissimo in difesa quindi vi lascio immaginare pure abbastanza veloce poi invece Fabio Lucioni 25 anni pure ho messo come mi pare ho messo titolare sì non è male forse quello è un po' più scarso però comunque ha marcatura 14 contrasti 13 colpo di testa 14 impegno 11 terminazione 13 non è affatto scarso Sergio contesto invece 23 anni purtroppo perché se fosse stato difensore questo contrasto 14 marcatura 14 avrei detto micchia bravo però è solo terzino poi in scadenza al rapporto di 3 stelle non è non è carne né pesce perché è pure abbastanza lento per essere un 23 n velocità 11 accelerazione 12 se fosse stato anche un po' più veloce l'avrei tenuto io qui l'ho messo precedibile perché ci potreste far su 500 mila euro che non sono affatto pochi però vedete anche un po' decidete un po' voi può essere che io qui stia sbagliando infatti sono molto indeciso io qui l'ho messo precedibile decidete anche un po' voi invece Maicon ragazzi un altro fenomeno mi piace davvero tanto e ovviamente da tenerlo titolare l'ho messo sulla fascia sinistra ma poi vi spiego ovviamente il perché veramente assurdo come terzino mi spaventa un po' la forza la massima operazione la resistenza però per il resto veramente ragazzi un fenomeno impegno determinazione un po' da aumentare qualità mentale da aumentare però ragazzi ha solo 20 anni lasciatelo crescere Paolo Frascatore in prestito dalla Roma lo manderei indietro perché si prende un bel po' di ingaggio e non è che sta grande cosa ecco Valero Foglio invece è discreto un discreto terzino sinistro poi può giocare anche a centrocampo e quindi diciamo un tutto fare e io lo terrei visto che non prende poi chissà che quanto ha solo 28 anni semmai rinnovate anche il contratto perché può far tanto bene scusate a volte mi si abbassa la voce che prima ho fatto il video sulla Salernitana comunque Strasser in prestito dal Milan io l'ho messo titolare ha ottime qualità mentali buone qualità fisiche tecniche qualità tecniche da mediano io l'ho messo titolare appunto proprio per farlo giocare come medianaccio anche se vi consiglio anche altri centrocampisti perché come nel caso della Salernitana abbiamo abbastanza pochi centrocampisti Jacopo dell'Oio sotto un tratto con la regina io vi consiglio di mandarlo in prestito perché secondo me non è ancora prontissimo per giocare Colucci 32enne invece già dal piede è un po' più forte rispetto ai precedenti lo metterei appunto al centrocampo per fargli fare il regista ecco Miguel Mazza invece lo manderei sempre in prestito anche se mi sembra comunque abbastanza buono è un po' lentuccio perché potrebbe giocare più sulle fasce ecco proprio per questo manderei in prestito sperando che queste qualità che fanno un po' schifo migliorino ecco Barilla Barilla ragazzi la storia della regina sta dal 2003 e ovviamente io vi consiglio di tenerlo più che altro per lo spogliato ha ottime qualità mentali qualità fisica comunque ha solo i 25 anni qualità tecniche così e così vabbè io comunque vi consiglio di tenerlo sperando che possa un po' crescere ma comunque ragazzi è la storia della regina quindi mandarlo via sarebbe quasi un peccato Catanese invece vi consiglio di o venderlo direttamente o comunque di mandarlo in prestito vedere che combina questo io lo terrei proprio come primo sostituto sulla tre quarti ecco Giuseppe Pavaglianiti invece o lo venderei perché non è sta grande cosa oppure mandatelo in prestito e vediamo se l'anno prossimo il valore aumenterà di Michele di Michele 164 partite Roma Foggia Salernitana Udinese Regina Udinese di nuovo Palermo Torino è stato nel 2007 2008 allora sbagliato 2007 2008 nel Torino veramente tanta roba West Ham poi di nuovo Torino Lecce Chievo veramente ragazzi un fenomeno non vi ha zatti a mandarlo via Dumitru giocatore in prestito dal Napoli in completà anche con l'Empoli giocatore che anche nel periodo del Napoli non mi ha mai dispiaciuto ecco anche se è giocato veramente poco e mi pare che era pure abbastanza veloce si abbastanza veloce per essere una prima punta vi consiglio di tenerlo come panchinaro l'ho messo come titolare invece dall'altra parte questo Fisch Naller abbastanza veloce in completà fra le gine alto non mi sembra affatto male come prima punta questo Federico Gerardi Gerardi scusate colpi di testa e finalizzazione buona eppure la velocità è buona quindi veramente ottimo Francesco Perrone invece come ultima alternativa l'ho preso dalla primavera non è comunque né scarso né fortissimo però ragazzi dobbiamo prendere un bel po' di giocatori vi faccio vedere dobbiamo prendere un portiere un bel po' di centrocampisti almeno un trequartista quindi con quei pochi soldi dobbiamo fare un bel po' di mercato ecco per questo ho preso un paio di giocatori dalla panchina come anche questo Coppolaro non mi ricordo se me ne ho parlato o meno questo Coppolaro che è un giovane della squadra primavera ecco che io ho messo in panchina ma tenetelo mi raccomando perché è davvero fenomenale ecco beh comunque la formazione in porta l'andremo subito a vedere un portiere sulle fasce Adeio e Maicon ho messo Adeio sulla destra perché lui sulla sinistra proprio non può giocare quindi per forza Maicon dovrà giocare sulla sinistra e ovviamente mettete allenamento comincia ruolo DS Lucioni e Ipsa titolari fissi Strasser Barilla anche se su Barilla sono un po' incerto però il problema è che praticamente non ci abbiamo nessuno Colucci Di Michele Fischnaller fate imparare tre quartista ruolo di tre quartista destra e Gerardi prima punta quindi andremo a vedere almeno un portiere almeno un terzino visto che non ce l'abbiamo come riserva ecco appunto due tre centrocampisti e un ala ecco un ala sarebbe un tre quartista ovviamente un ala a destra come portieri vi consiglio ovviamente tutti i portieri di esperienza due italiani comunque consideriamo che siamo in serie B questo Mauro Antonio che non mi sembra affatto scarso e prende veramente poco Guatelli anche italiano 29 anni e comunque altrettanto buono mi sembrano veramente tutti e due ottimi portieri per giocare in serie B questo è dal 2012 che però non gioca Zurigo e Mauro Ratelli invece all'ultimo anno l'ha fatto nell'Ascoli ha fatto pure 16 presenze invece poi vi consiglio anche questo Riccardo perché veramente come qualità caratteristiche portiere mi sembra veramente un fenomeno ve lo portare a casa con due spicci veramente due spicci però guardate qua porca miseria qualità portiere veramente fenomenale e anche disponibile a venire quindi potrebbe essere veramente un ottimo portiere lo so che ha 37 anni ma voi in futuro potete far affidamento su questo Zandrini o comunque sulle tante offerte che in futuro ci saranno poi vi auguro di arrivare in serie A e quindi di cercare un portiere ancora più forte come terzini ce ne sono parecchi partiamo forse dal più caro che è l'O2 e in scadenza nel 2015 quindi con 800 900 massimo 1000 euro portate a casa ottima velocità contrasti e cross e marcatura veramente molto forte molto valide e quindi vi consiglio lui comunque è molto buono invece formiconi lo prendete con circa 300.000 euro perché in scadenza qualità fisica veramente ottima qualità mentale così e cosà però voi dovete considerare che sono comunque riserve quindi 300.000 euro ve lo portate a casa e non è male però se voi volete proprio risparmiare forse ve lo consiglio essendo parlando comunque di una riserva vi consiglio questo Fortes che veramente con due spicci ve lo portate con 50.000 euro e a casa cioè viene da voi è comunque abbastanza veloce integrità fisica che spaventa però può giocare anche al centro campo contrasti cross marcatura veramente pochi soldi ve lo portate a casa ve lo consiglio ripeto l'unica pick è questa integrità fisica però veramente il colpo low cost poi ripeto sarebbe la terza scelta come terzino quindi nemmeno sta grande cosa invece sulla mediana è un po' più importante però vi ho trovato tre centrocampisti svincolati tutti e tre molto bravi questo Evolo il più vecchietto 34 anni però ha ottime qualità mentali discrete qualità fisica e discrete qualità tecniche da appunto medianaccio visto che comunque come regista già abbiamo Colucci non mi viene il nome ecco che sono andato a vedere poi Bambara dal cognome un po' così però mi sembra buone qualità tecniche da medianaccio buone ottime qualità fisiche discrete qualità mentali ve lo consiglio anche se non si prenda assai vabbè ora sono 150.000 euro ma perché il budget è da limare ovviamente comunque ve lo consiglio è un buon centrocampista invece ho trovato questo Arcas per non consigliarvi il solito Adam Bass oppure Zuculini visto che ve lo ho consigliati fino alla Nauza mi sono andato a cercare un altro centrocampista giovane e di belle speranze e svincolato ovviamente questo Arcas sembra anche a fare il caso vostro perché contrasti 13 marcatura 14 discrete qualità mentale impegno 17 determinazione 10 è un po' lentino sì però ha un'ottima resistenza elevazione ottima integrità fisica quindi ve lo consiglio fortemente viene dal Rensing e anche da giovanini l'ho fatta nel porto quindi sicuramente potrà far molto bene nella vostra squadra soprattutto poi in serie B questo Arcas promette bene poi come trequartista questo Alberto Perea che tipo con 150.000 euro lo portate a casa e non è affatto male spagnolo viene dal Rai o giovanini dove l'ha fatta e ha giocato anche nell'Atletico Madrid B ovviamente però non mi sembra ha fatto addirittura 5 presenze non è affatto male secondo me ovviamente non per una squadra di serie A ma per fare il panchinaro secondo me è ottimo invece come a parametro 0 insomma questo Manzari non è male può giocare sulla fascia sinistra e vabbè anche come trequartista la fascia destra e non mi sembra male un discreto cross buon dribbling molto veloce accelerazione 16 per un 31enne non ne ha affatto male è un po' la storia Nel Toulouse nel 2011 ha fatto 25 presenze Montpellier comunque francese vi consiglio anche lui perché non è affatto male e niente vi ho consigliato un po' le tattiche potete anche un po' andare a scopiazzare dal nostro spezia e niente come terzini appunto ve l'ho consigliato i portieri ci sono vabbè come sempre vi saluto facendovi vedere questa schermata i portieri sono comunque squadre di serie B o anche squadre basse e medie di serie A e terzini a parte Fortes non mi sembra affatto scasso peccato per l'integrità fisica però non è affatto male se no c'è anche un certo Tony lo spagnolo Tony che è un terzino che lo prendete svincolato non Luca Tony ovviamente e niente come mediani ci sono questi tre poi c'è anche il solito Benedetti io ragazzi non posso mettere sempre i stessi nomi perché se no non avrebbero senso questi video quindi vi faccio vedere sempre i giocatori nuovi però comunque tutti ugualmente molto molto forti quindi come sempre spero che questo video vi sia piaciuto vi invito ovviamente a se non avete cioè se non avete non è chiaro qualcosa se volete chiedere altri giocatori altri consigli come sempre chiedete pure se vi interessa che io faccia questo simile un video simile a questo con la vostra squadra chiedete pure quindi ovviamente un video di carriera con la vostra squadra quindi ovviamente come sempre condividete il video questo per poter crescere sempre in più iscrivetevi se non siete iscritti mettete un bel like e commentate ripeto sempre per avere consigli chiedere consigli dare consigli o quant'altro come sempre un saluto dal vostro Mike 94 da Football Manager chiedere consigli ciao ragazzi